Previsioni meteo per mercoledì 18 dicembre al nord nuvoloso con fenomeni più frequenti su Alpi prealpi al nord ovest più sporadici altrove, neve sui settori alpini occidentali dai 1500 metri, al centro peggiora sulla Sardegna con orvesci variabile sulle peninsulari con fenomeni in arrivo serale sulle Tirreniche, al sud nuvolosità in aumento con piogge su bassa Sicilia e ioniche in estensione a fine giornata su Campania e Basilicata, venti da moderati a forti, mari da mossi a molto mossi, temperature stazionarie.